Con Nick Zanone parliamo della Fiorentina, è un'altra delle tue ex squadre, anche se non hai giocato moltissimo con la Fiorentina, però comunque in Coppa Italia hai giocato. Sì, qualche presenza l'ho fatta anche nella Fiorentina, ma proprio io a Firenze diciamo che ci sono stato tre mesi, quattro mesi e arrivavo purtroppo da un infortunio molto grave nell'anno precedente. Non avevo ancora smaltito questo incidente, quindi al di là del fatto che ci sono stato pochissimo, non ero neanche nella condizione ideale per poter fare eventualmente e dimostrare in quel periodo le mie caratteristiche, le mie qualità. Peccato perché tutti naturalmente si ricordavano di quello che eri riuscito a fare nell'Anerossi-Vicenza in coppia con Paolo Rossi, quindi sognavano tanti i tuoi gol, poi purtroppo gli infortuni hanno lasciato il segno. Parlando della Fiorentina attuale, fa bene la squadra di Montella a credere nel terzo posto, adesso la Fiorentina ha quattro punti dal Milan? Ma quello è logico, il campionato è ancora aperto, sicuramente la Fiorentina è la squadra ora, dopo che è andato via Zema, è la squadra che gioca meglio. Prima preferivo ancora la Roma di Zema, nonostante tutti i problemi che ha avuto e in effetti nello scontro diretto mi sembra che la Fiorentina abbia subito, aveva creato e aveva fatto anche un buon gioco anche la Fiorentina, però mi sembra di ricordare che nella partita che aveva perso la Fiorentina aveva creato 6-7 occasioni, la Roma ne aveva creato una ventina e è stata una partita molto piacevole, però adesso a distanza di 3-4 mesi e tutto la Fiorentina è migliorata ancora e ha mantenuto sempre un rendimento costante ed è la squadra in effetti che per la potenzialità che ha nei giocatori è quella che poi trasmette un gioco, forse uno del gioco migliore della Serie A, è divertente, c'è sempre possibilità di creare occasioni e con sempre azioni non scontate. Chi sta meglio secondo te a livello di condizione fisica, la Fiorentina o il Milan? Ma adesso il Milan sicuramente ha fatto un ciclo di partite molto importanti e aveva dimostrato appunto di essere una delle squadre più difficili da affrontare, però un po' di infortuni, un po' di squalifiche e probabilmente la penalizzeranno un pochettino. Io penso che la Fiorentina ha la possibilità di arrivare in fondo e conquistare questo terzo posto. La Fiorentina nelle ultime partite si è messo particolarmente in evidenza l'Iaic, ti piace questo giocatore, ti ricorda qualcuno in particolare? L'Iaic è sicuramente un giocatore che adesso così nel campionato italiano che come fantasia così assomiglia un po' a Cerci del Torino. Sono dei giocatori che hanno delle caratteristiche diverse naturalmente, però che hanno degli spunti che veramente sono geniali e quindi hanno molta fantasia. Naturalmente mantenendo quelle caratteristiche è difficile che possano, anche quando avranno più esperienza, avere una continuità molto superiore a quello che stanno dimostrando ora, perché un giocatore con quelle caratteristiche non può essere continuo, perché è proprio il tipo di caratteristiche che non te lo permette.